Dopo l'ordinanza emessa dal sindaco di Satriano di Lucania, Vincenzo Pascale, ne arrivano altre quattro a stretto giro concernenti altrettanti pozzi privati. Coinvolto questa volta il centro di Brienza, l'area interessata è sempre la Valle del Melandro. Tuttavia soltanto in un caso, vale a dire per il pozzo di Contrada-Baccuta, come si apprende dall'albo pretorio, sarebbero stati riscontrati, analogamente a quanto accaduto in terra satrianese, livelli radioattivi leggermente superiori alla norma. L'amministrazione burgentina, guidata dal sindaco Donato Di Stefano, a seguito di un sopralluogo dei tecnici comunali, ha quindi emesso un'ordinanza di divieto assoluto dell'acqua per consumi umani. Stessa sorte è toccata agli altri tre pozzi, ma in via del tutto precauzionale. La differenza sta nel fatto che in questi ultimi tre casi non ci sarebbe alcuno sforamento dei parametri. Da Brienza l'amministrazione precisa che la situazione non è allarmante nel tentativo, altresì, di rasserenare un po' gli animi nell'intera valle. Il tavolo tecnico convocato dal sindaco di Satriano, Vincenzo Pascale, si è rivelato utile per richiamare l'attenzione degli enti affinché si monitori costantemente lo stato delle acque, del suolo e dell'aria. Io credo che grazie anche all'iniziativa che abbiamo svolto ieri nella Sala Consigliare del Comune riteniamo di aver tranquillizzato abbastanza la nostra comunità. Abbiamo spiegato nel dettaglio qual era la questione e che questa questione riguardava un solo pozzo privato identificato nel territorio del Comune di Satriano in seguito ai intagini dell'ARPAB. Voglio sottenere anche un'altra cosa molto importante che è questa, che se oggi si è giunti a queste conclusioni, a queste definizioni, è anche grazie a quella che è stata la mia volontà, la nostra volontà, la volontà di questa classe dirigente che ha voluto fortemente che l'ARPAB iniziasse a fare dei monitoraggi precisi, seri, puntuali sul nostro territorio. E si è vinto in buona sostanza che in questo pozzo privato c'è una radioattività leggermente superiore alla soglia minima per cui abbiamo tranquillizzato la comunità, abbiamo fatto noi un'ordinanza di divieto ad uso potabile di quell'acqua ma l'acqua che beviamo nelle nostre case, quella dell'acquedotto Lucano è assolutamente potabile come anche l'acqua irrigua per lo scopo e la finalità che a essa va benissimo quindi riteniamo di aver tranquillizzato la comunità ma questo nulla osta o nulla vieta rispetto al fatto che adesso l'ARPAB ci deve dare le cause o le concause di questo fenomeno cioè perché in quel pozzo i livelli di radioattività sono superiore alla norma se sono fenomeni naturali o antropici. Per bere l'ho usata fino adesso ma non so come regolarmi se usarla o meno ma gli antipreposti secondo me se la controllo, perché la controllo dovrebbe essere più affidabile lo dubbio c'è sempre Sì, secondo me non c'è nulla da preoccuparsi perché se andiamo a analizzare gli altri pozzi o altre acque qui vicino comunque dimostrano che sono un po' inquinate quindi nessuno ha l'alarmismo ha attrapelato una malanotizia che a mio avviso non doveva No l'acqua non ne bevo, io bevo vino Fino all'altro ieri sì, ma da ieri e oggi non dando, stiamo un po' con la paura anche se noi beviamo acqua minerale, acqua oligominerale, però per cucinare le verdure, la frutta come si fa? Non lo so, non lo so fino a che punto perché qua il mondo è tutto inguinato non diamo colpa a nessuno, però non è che stiamo troppo allegri Ieri sei ho visto tanta gente che penso che non ne capiva proprio un cavolo e sono venute tanta gente al comune io non ci sono andato però perché sono sempre le solite facce può darsi forse che c'è qualcosa Sono tutti telecomandati, anche questi enti perché sono diretti da certi personaggi che ci sono sempre stati e ci saranno io purtroppo per una vita ho fatto un portoletto e non ho visto di cotto e di crudo Che dico è buono, è buono, è troppo buono, io me la bevo L'acqua potava e mi fido sì perché sono stati fatti dei prelievi qualche anno fa e è risultato tutto perfetto dell'acqua di irrigazione mi fido fino a un certo punto allora io come cittadina sono pochissimo informata di questo che è successo anche se ieri hanno fatto una riunione sul comune però di preciso non ci hanno detto cosa succede e cosa è successo perché noi l'abbiamo saputo in questi giorni tramite i media e quindi in merito non sappiamo cioè abbiamo un punto interrogativo, non sappiamo se quest'acqua va bene o non va bene Lei si fida dell'acqua di Satriano? Ah non so, c'è niente, non sono di Satriani Ma mi beve l'acqua o il vino? Il vino mi beve vino Quindi si fida appena?